Luigi Pirandello nacque 150 anni addietro il 28 giugno 1867, alle ore 3.30 della notte, quando cadde come una lucciola sotto un pino solitario in una campagna ad olivi saraceni affacciata agli orli di un alto piano di argille azzurre sul mare africano. Ebbene, il prossimo 28 giugno, ad Agrigento, nei pressi della casa natale di Pirandello, in Contrada Chaos, il Pirandello Stable Festival di Mario Gazziano, il Parco Letterario Chaos di Bernardo Barone e il Centro di Promozione Sociale Cepasa di Paolo Cilona hanno organizzato l'evento Caddi come una lucciola, dalle ore 3.30 della notte in poi. Ascoltiamo in proposito lo stesso Mario Gazziano. Sì, una grande manifestazione di adesione culturale, spirituale e sentimentale rispetto a Luigi Pirandello. Avremo una presenza storica nello spazio davanti alla casa di Pirandello e davanti al caffè letterario di Pirandello di Dino Barone. Una presenza storica che va a Danilo Bellomo, artista e patriarca del teatro agrigentino, grande interprete pirandelliano, a Maria Grazia Castellana, la nostra brava attrice, Maria Fantauzzo e ancora le poetesse sempre presenti, Giuseppina Mira, Stella Camiglieri, Liliana Arrigo, Etta Miglioto, Daniele Lardi, Elisa Cilona, Zaira Piccone, Eva Di Betta, Caterina Vullo e ancora Francesco Naccari, Giugiu Gramaglia, Alfio Russo, Giuseppe Gramaglia, Lillo D'Aleo, Enzo Argento e ancora Giovanni Costanza e ballerini della scuola di danza di Simona Vita. Una grande festa, ma che vuole essere una grande testimonianza di appartenenza della città al spirito di Pirandello. E presenteremo in anteprima il volume, la copertina del nuovo libro di Paolo Cirola, il respiro pirandelliano di una città dove si racconta la storia della città, il rapporto a Pirandello, una novità assoluta. A parte la stele che inaugurerà Dino Barone, la dottoressa Carmelina Guarneri, che è anche una grande pittrice, offrirà un ritratto di Pirandello che resterà a futura memoria. Dunque una grande manifestazione e gli ospiti potranno arrivare liberamente all'ingresso gratuito, naturalmente intorno alle 3, alle 3 e mezzo con l'accensione del tripode daremo inizio a questa notte delle lucciole a cui Pirandello si ispirò sempre e a cui noi siamo legati.